Buongiorno agli amici del blog di Beppe Grillo, io sono Antonella Nonino, rappresento la quinta generazione nella famiglia Nonino, la mia famiglia distilla grappa dal 1897 e la grappa è sempre stata un prodotto tipicamente italiano, soprattutto delle regioni del nord Italia, legato alla civiltà contadina, perché non dimentichiamo che il Friuli è stato parte dell'impero austro-ungarico per tantissimi anni, il distillato della frutta era distillato per le classi più ricche, più ambienti, mentre invece la vinaccia, che è il residuo della vinificazione, veniva lasciato ai contadini o addirittura ai sottans, cioè ai mezzadri che lavoravano la terra del padrone, e per loro diventava veramente una fonte fondamentale di sussistenza, non posso dimenticare le parole di padre David Maria Turoldo, la grappa era l'acqua di fuoco che ti dava la forza di dimenticare la fame e di andare avanti, quindi questo fa parte della tradizione della mia famiglia, ma i miei genitori Giannola e Benito Nonino sono stati capaci per la loro passione, per il loro rispetto che avevano del lavoro che stavano portando avanti, per la voglia anche di rivalsa nel senso buono, cioè di far apprezzare il frutto del loro lavoro, la grappa non solo in Italia, ma in tutto il mondo, hanno portato avanti per anni la sperimentazione fino a inventare una grappa molto più elegante, molto più apprezzata dal consumatore, la grappa monovittinio, quello che succedeva nel 1973, quest'anno festeggiamo i 40 anni, ed è da allora che i miei genitori si sono sempre battuti per mantenersi fedeli alla tradizione, cercando però sempre di innovare, innovare nella qualità e per far conoscere anche il frutto del loro lavoro che è un esempio, io credo, di eccellenza del made in Italy in tutto il mondo. e noi Cristina, Elisabetta ed io siamo cresciute in una famiglia quindi di imprenditori, artigiani con un grande senso del rigore, un grande senso del rispetto della fatica che sta dietro ad ogni prodotto che poi viene offerto sul mercato, ma che è frutto di una tradizione a cui noi siamo assolutamente legati. i miei genitori hanno anche istituito nel 1975, proprio per la loro passione verso le tradizioni della nostra regione, del Friuli, ma anche verso la civiltà contadina, hanno istituito il premio nonino Risiddaur, Risiddaur vuol dire proprio barbatella d'oro e loro lo hanno istituito perché volevano salvare i vitigni autottoni friulani che stavano scomparendo. Già allora nella cosiddetta comunità europea, che quella volta era la CE denominata, c'erano state delle leggi tra virgolette assurde, un censimento dei vitigni presenti sul territorio italiano, come negli altri stati della comunità europea e in Friuli, come probabilmente in altre regioni, i vitigni autottoni, quelli che avevano, che racchiudevano la storia della nostra terra, della nostra regione, non erano stati messi nell'elenco per cui diventavano fuori legge, penso allo Schiopettino, al Pignolo, al Tacelenge e in parte anche alla Ribolla e i miei genitori, dopo aver distillato le vinacce dell'uva Piccolit e aver creato appunto questa straordinaria grappa monovitigno Piccolit, volevano distillare la Ribolla, andando alla ricerca delle vinacce di Ribolla si accorsero che stavano scomparendo e da lì il loro desiderio di salvare le tradizioni della propria regione, della propria cultura. Negli anni, i miei genitori hanno deciso poi di allargare il premio Nonino ad una sezione più prettamente letteraria, prima addirittura a degli articoli legati alla civiltà contadina e poi il grande salto è stato fatto con Ermanno Olmi, venne premiato L'albero degli zoccoli, questo film straordinario che ci dà un'idea di quello che poteva essere veramente la civiltà contadina con tutte le sue luci ed ombre. Io quando lo vedo devo dire ancora mi commuovo perché mi rendo conto che veniamo da quella tradizione ce l'abbiamo dentro nel nostro DNA, in Friuli poi come in altre regioni italiane dove la civiltà contadina è stata predominante e non posso dimenticare anche le parole che Leonardo Sciascia disse quando venne a ricevere il premio Nonino l'anno successivo e quando gli chiesero ma la civiltà contadina ormai è morta perché è stata in qualche modo invasa dalla civiltà industriale, lui rispose il giorno che morirà la civiltà contadina morirà l'uomo, perché in effetti se noi pensiamo a tutto quello che è legato alla civiltà contadina nel senso più ampio, quindi pensiamo appunto alla terra, alla salvaguardia del pianeta, all'ecologia, quindi crescere in questo ambiente per le mie sorelle e per me è stato un grandissimo privilegio e questo permette, riallangiandomi al discorso di prima alle mie sorelle e a me di mantenere un rapporto vivissimo con la terra, per cui abbiamo un lavoro che nel periodo della vendemmia, quindi in autunno, è dedicato completamente e intensamente alla distillazione, quindi alla produzione, noi selezioniamo la materia prima, la fermentiamo, abbiamo un metodo di produzione rigorosissimo e rigorosamente artigianale e poi la distilliamo appunto in all'ambico discontinuo a vapore. La cosa più emozionante è che quando poi andiamo a proporlo nella nostra azienda non ci sono direttori, siamo noi della famiglia che seguiamo tutto in prima persona, quindi è molto bello poi vedere le reazioni quando le persone assaggiano, degustano, anche qualche critica, perché le critiche poi ti aiutano a crescere, ti aiutano a tornare a casa piena di idee nuove con la voglia sempre di migliorare e teniamo sempre presente, il nostro padre è il classico uomo friulano, un pochino chiuso, però appunto molto rigoroso, anche un po' burbero se vogliamo, però ci dice sempre che abbiamo ancora almeno un 30% di margini di miglioramento e questo essendo considerati leader di qualità nel nostro settore, ci fa capire che il desiderio è tendere alla perfezione, tendere alla massima qualità ed è con questo fine, con quest'idea che noi tutti i giorni andiamo a lavorare. Ovviamente pensando al lavoro, pensando all'azienda, pensando alla famiglia, non posso non fare una riflessione sul momento che l'Italia sta attraversando, ovviamente come piccola media imprenditrice, ma anche come mamma e come donna, io ho due figlie, una di 16 e una di 12 anni, ovviamente sono proiettata al futuro, ad un futuro che mi auguro positivo per loro, mi rendo pienamente conto delle difficoltà che ci sono oggi, non sono in Italia, ma in tutto il mondo. Ho una fortuna che sono una persona sempre positiva, so cosa vuol dire la fatica, perché sono stata cresciuta appunto come dicevo con l'idea che il lavoro è rigore e con un grande senso del dovere, anche quando ero ragazzina e studiavo e comunque bisognava dare una mano anche in famiglia, in quella che è la nostra attività, perché nelle attività familiari il lavoro entra nella famiglia ed è parte della vita della famiglia ogni giorno, però mi rendo conto che con fatica, con rigore bisogna affrontare il futuro e inventarsi anche un pochino il futuro. Ho il vantaggio anche di visitare più volte all'anno i paesi che sono in via di sviluppo, penso in particolare alla Cina, è comunque una dittatura, però ogni anno quando vado vedo dei grandissimi miglioramenti, vedo negli occhi dei giovani, negli occhi della gente che lavora con me o che vedo per strada una prospettiva più positiva, una speranza nel futuro e quindi vengo a casa sempre con questo bagaglio positivo e con una grande voglia di impegnarmi. Mi rendo conto che in Italia adesso stiamo appunto vivendo un momento molto difficile, però io mi auguro pensando anche a tutte le forze che sono state elette nel nostro Parlamento, pensando ai tanti giovani che oggi si trovano anche in questa nuova avventura, io credo e spero ovviamente che ci sia una grande voglia di fare, rendendoci conto che siamo un paese straordinario, perché questo ce lo riconosce il mondo intero. Quando si parla del made in Italy, del way of life dell'Italia, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri problemi, con il fatto che siamo persone egoiste, pensiamo sempre al piccolo, al personale e non abbiamo una grande idea del paese nella sua totalità, vivendo la vita in mezzo alla gente di tutti i giorni, con tutte le difficoltà che deve affrontare una piccola azienda e anche una famiglia, quindi con dei figli che vanno a scuola, che fanno parte della società e che hanno un rapporto con la vita reale, quotidiano, io credo che ci siano anche tantissime persone molto positive e con la voglia di cambiamento. Il fatto stesso che il Movimento 5 Stelle abbia ottenuto questa grandissima incontro nei cittadini nel nostro paese, ha dimostrato che l'Italia ha voglia di cambiamento e credo che sia arrivato proprio il momento per avere un'Italia diversa. Mi rendo conto che non è facile, però io credo che in tutte le persone che oggi sono state elette e comunque che si occupano di cosa pubblica, ci sia un grande senso di responsabilità perché si renderanno conto che abbiamo necessità di essere governati, necessità di cambiamento, pensando come piccola e media imprenditrice la necessità di diminuire i costi della politica, di migliorare tutto l'apparato burocratico, sono cose che si dicono da tanti anni ma che in realtà, per le quali in realtà è stato fatto ancora molto poco. Confrontando anche proprio i dati che ci sono, mi riferisco per esempio alla comunità europea, si vede come in Italia sono state aumentate tantissimo le tasse, questo vale per le imprese ma vale anche per le famiglie, per il cittadino in maniera smisurata e in realtà non sono state abbassate le spese. Se uno si rapporta a quelle che sono le spese in un'azienda piuttosto che in una famiglia, la prima cosa che una persona di buon senso fa è ottimizzare le spese e di diminuirle invece dove è possibile, questo noi per esempio all'interno della nostra azienda lo stiamo già facendo da alcuni anni, senza intaccare quella che è la ricerca, quindi tutto l'investimento nella qualità, nella produzione per produrre una grappa di altissima qualità, quello non viene assolutamente toccato, dove si va a spendere, dove si può e quindi nell'organizzazione, lavorando di più noi della famiglia e cercando di ottimizzare quello che è il lavoro all'interno dell'ufficio piuttosto che della produzione e quindi dell'imbottigliamento, dell'organizzazione, della distribuzione del prodotto, si vede oggi purtroppo i consumi sono calati in maniera mostruosa, quindi si capisce che nelle famiglie questa legge è già diventata una legge pratica perché è necessaria all'interno delle aziende altrettanto, non si capisce perché il paese non debba applicarlo in maniera ovviamente equa cercando di continuare a sostenere quelle che sono le classi più bisognose e a me vengono soprattutto in mente, sono sincera, le famiglie perché avendo bambini mi rendo conto che per le famiglie dove ci sono dei bambini, dei ragazzini che hanno diritto a studiare, hanno diritto ad avere un futuro, siamo noi adulti che dobbiamo in qualche modo fare in modo che questo possa avvenire e noi siamo uno dei paesi dove la scalata sociale è più basso e questo è uno degli indici credo più tristi che il nostro paese possa avere perché ci deve essere la possibilità per i giovani di spendersi e di crescere perché è una ricchezza per tutti, per la società intera. L'azienda Nonino oggi in Italia rappresenta sicuramente un'eccellenza del made in Italy nel nostro settore, peraltro il settore no gastronomico che è uno di quelli che sta avendo una maggiore crescita insieme a altri distretti produttivi italiani proprio perché legato al settore no gastronomico è il settore che più viene apprezzato a livello globale. Mi rendo conto però che il nostro paese tutela relativamente la produzione no gastronomica, ci sono dei movimenti, ma sono dei movimenti come lo slow food che cercano di dare risposta alla tutela del nostro patrimonio no gastronomico, alla qualità, a tutelare quindi la qualità. Nel mio settore in particolare, penso alla grappa, purtroppo non c'è una legge che la tuteli. Se pensiamo che per il whisky e per il cognac esiste una regolamentazione della produzione che è stata definita da tantissimi anni, l'uso greco ha una sua regolamentazione di produzione, cosa che nel nostro settore non avviene. Per cui in Italia l'80% della grappa è industriale, non c'è l'obbligo di specificare in etichetta se il prodotto imbottigliato deriva da una distillazione artigianale o da una produzione industriale, ovviamente il produttore serio come noi cerca di fare distinguo poi sull'etichetta, però sarebbe opinabile una maggiore attenzione alla qualità, perché oggi sappiamo che nel mondo globale il prodotto vincente è il prodotto di sempre maggiore qualità correlativo specificatamente al singolo paese, perché in un mondo così ampio è ovvio che il produttore cerca cose specifiche che sono uniche, quindi legate all'Italia piuttosto che ad altri paesi e che siano di qualità. Noi come azienda e come famiglia lo perseguiamo da sempre ed è il motivo per cui probabilmente i nostri genitori sono diventati così apprezzati in Italia, mia mamma è stata una delle poche donne cavaliere del lavoro nella storia della Repubblica Italiana proprio per quello che è riuscita a fare per la grappa non solo in Italia ma nel mondo, però una maggior attenzione da parte quindi dello Stato, quindi del governo e anche una maggior attenzione da parte dell'organizzazione burocratica, pensiamo in Italia c'è appunto l'ICE, si dà da fare ma si potrebbe fare molto di più. Noi siamo un'azienda che ha sempre visto al mercato estero il 40% della nostra produzione viene esportata, penso però ci sono tante piccole aziende nel nostro settore che magari non hanno avuto una giornola nonino che ha preso e partita 20 anni fa per far conoscere la grappa negli Stati Uniti piuttosto che in tutta l'Europa e quindi ci vorrebbe da parte anche di tutti gli apparati burocratici una maggior propensione all'aggregazione delle piccole e medie imprese, per esempio un altro problema che io vivo perché lo sento appunto muovendomi nel mio ambiente, la lingua inglese è sì conosciuta ma le persone che lavorano nel nostro settore non hanno così tanta dimestichezza, io stessa mi rendo conto lo utilizzo perché ne ho bisogno però mi sento sempre un pochino manchevole con la lingua e oggi conoscere le lingue straniere è fondamentale, ma questo non vuol dire dimenticare le peculiarità delle specifiche regioni, però anche con una maggiore attenzione nell'istruzione, una maggiore attenzione alle lingue straniere se non è andrebbe fatta, perché comunque ormai l'Italia fa parte dell'Europa ma fa parte anche del mondo intero e quindi bisogna che le nuove generazioni, i giovani quando vanno a cercare un impiego devono avere una grande dimestichezza, ormai non possono più arrabattarsi come potevo fare io o le mie sorelle. Oggi la possibilità di avere accesso a internet, abbiamo visto che i giovani lo usano ed è una cosa straordinaria, permette un po' a molte più persone di connettersi con il mondo intero e quindi un maggiore voglia anche di imparare appunto le lingue straniere, però da parte anche del Ministero dell'istruzione ci dovrebbe secondo me essere una maggiore attenzione a come vengono insegnate all'interno della scuola fin dalla giovane età e poi come azienda sicuramente una diminuzione del costo del cuneo fiscale, perché in realtà siamo un paese dove il costo del lavoro per le aziende è altissimo e in realtà poi al lavoratore arriva molto poco di quello che è il costo effettivo all'azienda stessa ed è questa una disparità perché anche comparati agli stipendi dei lavoratori negli altri paesi europei, noi sappiamo che in Italia il potere d'acquisto è veramente molto calato, siamo tornati indietro di tantissimi anni e la vita quotidiana delle persone dipendenti è diventata sempre più difficile, sempre più pesante. Questo sarebbe una necessità che la nostra categoria, la categoria appunto degli imprenditori chiede da tanto tempo e credo che sarebbe che sia giunto il momento di veramente di fare qualcosa, perché si parla tanto, poi in realtà è stato fatto molto poco. Io lunedì sono in fiera al Vinitaly, magari cercherò di connettermi perché là, ecco per dire una cosa banale, ma anche in fiera, cioè in tutte le fiere del mondo c'è il wifi gratuito lì, se tu vuoi avere il wifi ti devi, ok lo puoi fare col tuo cellulare eccetera, però dovrebbe essere un servizio invece lo devi pagare, per cui ovviamente ci saranno le aziende che lo fanno, noi per esempio siamo dei risparmiosi, non lo facciamo, però dovrebbe essere un servizio che oggi come oggi è normale, è abbastanza aiutato, ecco queste cose qui che sono piccole cose, però per esempio anche noi qua a Percoto, dove ci sono anche altre aziende che stanno anche andando, che stanno riuscendo a tenere duro anche in un periodo come questo, noi dobbiamo pagarci la linea internet perché non c'è, noi abbiamo una linea privata, un pagamento e allora io penso un giovane imprenditore che mette su la sua aziendina e ha tutte già una serie di spese e deve anche pagarsi la connessione internet, capisci che c'è uno squilibrio e una mancanza di pari opportunità perché magari se uno lo apre a Milano, in provincia di Milano o in regione lombardina, queste cose le ha naturalmente, lo fa in Friuli e invece non ce le ha ed è una ingiustizia, non voglio pensare a altre zone d'Italia, ecco noi siamo anche la famosa nordese che dovrebbe essere moderno e dovrebbe essere al pari con la Germania perché a livello produttivo in teoria lo sarebbe di occupazione, di produttività e di riciclaggio dei rifiuti, ecco il nostro comune per esempio ha avuto il premio due anni fa, il sindaco è una persona molto seria, ha iniziato, ormai saranno passati un po' di anni, non so 5, 6, non lo so, della raccolta differenziata, abbiamo avuto anche il premio come comune virtuoso e siamo al pari con la Germania come tanti altri, però voglio dire ci sono delle realtà molto positive e non solo pensando al nord Italia perché con il nostro lavoro abbiamo spesso, ecco una cosa per esempio bellissima, adesso andremo a Palermo a fare una divulgazione di grappa, il catering verrà fatto da questo chef che ha uno dei più bei catering a Palermo e che qualche mese fa si è rifiutato di pagare il pizzo, adesso gira con la scorta, è un personaggio conosciuto, è stato invitato alle varie trasmissioni televisive a cucinare e quindi voglio dire ci sono giovani che mettono a repentaglio, ovviamente questo adesso è nel mirino perché è come tantissimi altri che stanno cercando di rinnovare la nostra società e farlo laggiù, cioè voglio dire farlo qui può essere un merito, ma farlo laggiù è veramente una scelta di vita perché metti a repentaglio la vita tua e di chi ti sta vicino, quindi ci sono dei segnali positivi e bisogna assolutamente fare in modo che tutto questo porti a qualche cosa di positivo per l'intero paese, non bisogna lasciare, io mi auguro, adesso vedremo anche i parlamentari del gruppo 5 Stelle cosa decideranno di fare, io capisco che sono stati eletti e hanno determinate responsabilità, hanno preso degli impegni, però ci sarà qualcosa che si può fare nonostante questo governo, questo parlamento così eterogeneo che non riesce ad avere una maggioranza, speriamo!